ci raggiunge qui per il quarto premio la professoressa Margherita Valdi della giuria di qualità facciamo un applauso anche a Margherita e vince il premio della critica l'istituto comprensivo Mimmo Beneventano di Ottaviano forza ragazzi venite eccoli qua generazione connessa se non sbaglio giusto? questo lo ricordo perché ecco avendo una figlia di 12 anni anche lei sempre con un cellulare mi è rimasto un po' impresso effettivamente ragazzi riguardiamolo questo cortometraggio perché davvero dà dei messaggi importanti peredigliamo i rapporti sociali quindi con gli amici lasciamo i telefoni lasciamoli a casa giochiamo andiamo più in strada grazie ancora